Si sono tenute nei giorni scorsi due conferenze di servizi per l'acquisizione dei pareri sui progetti di riqualificazione del lungomare Andrea Doria nel tratto da piazza Duca degli Abruzzi a piazza Malta e di riqualificazione naturalistica e paesaggistica dell'area di approdo dell'ettrodotto Italia-Malta, area ex depuratore ed ex giostre. Su entrambi i progetti sono stati acquisiti pareri positivi della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali di Ragusa, dell'ASP di Ragusa, dell'Agenzia delle Dogane, del Genio Civile, della Provincia, dell'Assessorato regionale al territorio e ambiente, Servizio de Manio Marittimo e della Capitaneria di Porto. Il primo, già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche con un importo complessivo di 2 milioni e 600 mila euro, prevede un articolato intervento di riqualificazione di uno dei tratti centrali della frazione Rivierasca, mentre il secondo, riguardante il miglioramento dell'intera area all'ingresso S di Marina di Ragusa per una superficie di circa 10 mila metri quadrati, prevede tra l'altro la realizzazione di un'area giochi ed uno spazio per eventi creativi e culturali. L'assessore comunale ai lavori pubblici Salvatore Corallo esprime soddisfazione per l'esito positivo di un paesaggio propedeutico fondamentale per la conclusione del liter tecnico di approvazione di entrambi i progetti, ritenuti dall'amministrazione comunale di importanza strategica per Marina di Ragusa, sia dal punto di vista della fruizione che da quello dell'immagine.